È qualcosa di irresponsabile, di vergognoso, di intollerabile e di offensivo per il mezzogiorno Italia. Come voi sapete gli accordi di coesione sono stati firmati dal governo italiano con tutte le regioni del nord più il Lazio. Nessuna regione del sud, è una vergogna. Ovviamente voi sapete come me, meglio di me, che quando bisogna programmare le attività culturali, bisogna partire un anno prima, non è che organizzi una stagione teatrale, una stagione lirica, il festival di Giffon, il festival di Ravello, dalla sera alla mattina. Quindi sono veramente degli irresponsabili. Abbiamo avuto ieri un incontro con responsabili del mondo della cultura, dello spettacolo. Stiamo preparando una grande manifestazione di protesta contro il governo. Se continuano a dormire e ad avere atteggiamenti irresponsabili, promuoveremo una manifestazione forte a Roma. Faremo altre tre manifestazioni con gli amministratori locali, che rischiano di andare in default con i loro bilanci. Faremo iniziative anche sul tema della sburocratizzazione. Stiamo ripetendo anche ai miei colleghi del Nord che la battaglia che facciamo è per un'Italia più moderna. Solo che a differenza loro, un'Italia moderna ma unita.